Ehi tu, proprio tu, lo so bene quello che stai pensando di fare, lo sappiamo bene tutti e due ragazzi Magari non tu, magari un altro tu, ma molti dei tu che conosci stanno pensando di fare questa cosa E io so bene che cos'è, tu, tu, o tu, state pensando di comprare Assassin's Creed 4 E voglio solamente dirvi che ho scritto due righe apposta per voi perché ci sono cose importanti nella vita E a volte ci vorrebbe un amico per ricordarti qualche sbaglio che hai compiuto in passato Tutti quanti compiamo degli sbagli nella nostra vita E a volte però finiamo per dimenticarci di quegli sbagli e degli errori e delle conseguenze e delle lacrime e del vomito E io ci tengo davvero, in qualità di tuo amico anonimo, a ricordarti, a ricordarti dei tuoi errori passati Beh, appunto, devi sapere che ho preparato questa lettera proprio per te Giuro, sono poche righe che ho speso solo per rincuorarci a vicenda E... sono piene di parolacce Per cui, se pensi che ti daranno fastidio, chiudi adesso, magari Perché tra poco cascherà merda dal cielo Ti ricordi quella sensazione che provi quando qualcosa ti tenute dal profondo del cuore e dentro di te pensi Ma no, sarà stato un misero errore La prossima volta andrà meglio, di sicuro Beh, io l'ho provata con Assassin's Creed Sono sicuro che la prossima volta andrà meglio L'ho provata con Assassin's Creed Revelations No, sono sicuro che la prossima volta andrà meglio Magari durerà anche un po' di più Neno bug, più carino Di sicuro è stato un piccolo errore di percorso Ma anno dopo anno, Ubisoft sa sempre di più quello che io voglio La prossima volta andrà certamente meglio E poi, alla fine, dopo anni di attesa Siamo giunti a Assassin's Creed 3 Il capitolo definitivo della saga, secondo Ubisoft Beh, ragazzi Sono sicuro che tutti quanti, giocando a questo gioco Abbiamo pensato la stessa cosa All'unisono Come un'unica entità vivente Abbiamo tutti quanti guardato dentro di noi e ci siamo detti È una merda pazzesca E la cosa più bella di tutte È che c'è ancora gente che dice Ad alta voce Minchia, che figo, Assassin's Creed 3, 4, 5 Troppo figo, cacci le lami Ce nate, ammazzi la gente che cade per terra nel suo sangue Vomitando sangue sopra il sangue dell'altra gente Minchia, troppo bello Nooo Minchia, puoi ammazzare il papa Nooo, troppo alternative, zio Questo gioco campa ancora È solo e unicamente sull'idea Che impersonare qualche assassino cattivissimo Sia la cosa più bella del mondo Ma non è così ragazzi E la trama è figa Sì che è figa Perché può farti salire il fratismo folle Non vedi davvero l'ora ogni volta di galoppare qualche bel cavallone Non vedi l'ora di salire su qualche torre di 300 metri Solo per tuffarti in minchia di mucchio di grano Che, contrariamente a quanto direbbe ogni cazzo di suggerimento della forza di gravità Non ti sfracella Poiché, essendo spesso 5,2,3 fotocentimetri Ti consente di atterrare comodamente come un micetto sopra la carta igienica regina L'unica cosa che sarebbe in grado di ripulire questo enorme s*****o digitale I cavalli si segano in due quando ci sali a bordo Perché c'è il tuo cazzo di mantello che gli penetra la schiena E anziché cavalcare come ogni cazzo di equino Invece glicciano come la merda colta dal Parkinson Le palle di cannone si fermano a mezz'aria E poi quando sali su dei pesci Ti esplodono in faccia Ditemi com'è possibile che ancora oggi io senta così tanta gente dire apertamente Minchia figa, appena esce a G4 cazzo corro al GameStop Me lo compro, vaffanculo, caccio il discomple Mi metto il joystick nelle palle con la vibrazione E mi sgancio una pippa su barba nera Ma sì, becchiamoci Connor che balla su se stesso come un deficiente Gente che buscia nel vuoto Minchia troppo togo, scassino l'ossigeno Capirei se fosse un gioco gargantuescamente grosso come Skyrim O come Fallout 3 O come GTA 5 Ma parliamo di un giochino piccino piccino picciò Da sole cinque cazzo di ore Come è possibile non fixare una cosa Che complica in cinque ore Ti piacciono le speronate nel culo? Corri a comprare le porca p***a editions Al loro interno troverai ben dieci cartonini da dieci centesimi in una E dentro alla confezione più esclusiva Le soundtrack del gioco Inclusi nel prezzo in cui non sono davvero inclusi Troverai sicuramente i DLC Denominati Potremmo metterli dentro il gioco ma invece li facciamo pagare Genio Minchia sono gratuiti nella collezione edition da 180 euro Mentre gli sfigati li comprano a 6 euro l'uno dal Playstation Store Purtroppo lo so già che il 90% di chi commenterà non capirà il sarcasmo E mi risponderà tranquillamente Tu non capisci niente Vatti a sparare brutto ciccioni di merda Io 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 vado a giocare a C4 Così assassino la vigente E voglio ad assassinare allora Mi dispiace Cioè mi piace Assassin's Creed Però ragazzi voglio che comprendiate che questo video è puro sarcasmo Ognuno deve farsi piacere i giochi che gli piacciono tranquillamente Senza corretti i pregiudizi Ma ci tenevo a dire in maniera molto metaforica con questo video Che secondo me Assassin's Creed è una saga colma di potenziale Che purtroppo non verrà mai sfruttato per via della natura stessa di Assassin's Creed Ovvero un gioco commerciale il cui solo nome basta vendere le copie E pertanto quindi non impiegherà mai neanche un minimo di impegno nella sua realizzazione Tutto qui Quindi io concludo dicendovi Pace e baci Ricordati che devi iscriverti al canale Così puoi vedermi mentre mi sparo una sega su barba nera Ciao! Grazie a tutti.